Una collezione di moda, la prima al mondo, realizzata abbinando l'intelligenza artificiale degli smartphone all'estero creativo umano. È il progetto Fashion Flare di Huawei che ha messo la tecnologia degli smartphone P30 e P30 Pro al servizio della stilista Anna Young, Creative Director del brand Anna Kiki, per realizzare 20 capi che hanno sfilato in zona tortona a Milano davanti a una platea esclusiva. Per disegnare i capi, la stilista ha utilizzato la app Fashion Flare, realizzata da Huawei insieme a un'equip di sviluppatori italiani e dotata di un database composto da migliaia di immagini di moda degli ultimi cent'anni e dalle collezioni di Anna Kiki. L'applicazione, utilizzando la doppia unità di calcolo neuronale presente negli smartphone e seguendo gli input e i filtri imposti dal designer, è in grado di realizzare una serie di proposte di outfit potenzialmente infinite, che rappresentano il punto di partenza per realizzare i capi definitivi. Isabella Lazzini, Marketing and Retail Director Huawei Italia. Questa iniziativa dimostra come Huawei vuole utilizzare i propri prodotti e la propria tecnologia per sfidare i limiti di quello che è umanamente possibile. E in questo caso la tecnologia viene messa alla prova con un mondo così lontano e così affascinante come quello della moda. La collezione, realizzata da Anna Young, è acquistabile online e parte dei proventi della vendita, saranno utilizzati per finanziare un progetto a supporto di giovani talenti della moda.